Dottor Franco Gatti, cure dentali e non solo. Lo studio medico dentistico Dottor Franco Gatti dal 1980 è presente in Pinerolo per realizzare cure e protesi secondo le più aggiornate tecniche e metodiche scientifiche, cercando di soddisfare le esigenze estetiche, funzionali ed economiche dei propri pazienti. La prima visita è gratuita, protesi fissa e mobile su impianti, mini impianti a carico immediato di protesi mobile, interventi di paradontologia per stabilizzare denti mobili, cure dentali per bambini adulti, ortodonzia per bambini adulti, ortodonzia estetica invisibile, sbiancamento dentale professionale con ultravioletti in un'unica seduta, trattamento estetico per viso e corpo con apparecchiatura USA in radiofrequenza, diagnosi e terapia senza farmaci del mal di testa, tensioni cervicali e muscolotensivi, esercitata dal professor Ivano Carotta, specialista in natologia.